Andiamo. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Qualche giorno fa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di segnalarci i cinema in cui il film Honor non è stato programmato. Facendo un rapido calcolo, abbiamo scoperto che alcune grandi province e addirittura regioni intere sono rimaste totalmente a bocca asciutta, impedendo di fatto a centinaia di migliaia di zoofili di andarlo a vedere. Già, ma perché? 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 Chiamiamole sale e chiediamolo a loro. Trenotazioni di UCI Cinema Sitalia, servizio riservato ai maggiorenni. Trenotazioni, buongiorno. Scusa, un'informazione. Io volevo sapere se era in programmazione il film Honor, quello dello zoo. Honor? Sì, Honor. Allora, Honor c'è a Casonia, se vuoi, alle 22.45. Eh, così tardi. Ma scusi, ma perché non lo stanno mettendo sto cinema? Quello sta sul cazzo Mazzoli, è vero? Ma va, perché? Anzi, è simpaticissimo. Eh? No. E non è, perché io non lo trovo da nessuna parte, va, manco... Sì, non è stato distribuito come dovrebbe. Eh, ma perché? Ma perché quello, ma allora io sapete chi so? Io so Herbert Ballerina, mi conosci? Purtroppo no. No, no. Perché quello è... C'è rimasto male. Come no? No, non ti conosco. Herbert Ballerina, no, non lo conosci? No. Vabbè. Comunque, perché quello a me mi ha detto, eh... Scusa se ti interrompo. Prego. Interessa. Ah no, cazzo, sempre tardi anche lì. No, sono andato a cercarselo da un'altra parte, ma è sempre tardissimo, eh. Ma perché lo fanno così tardi? Meglio che un film horror. No, eh, non lo so perché. Va bene, va. Eh, ti saluto, eh. Forza Napoli. Ciao, bene. Ciao, mi vieni. Il caso. Il caso. Da giovedì 31 marzo a mercoledì 6 aprile sono in programma i seguenti film. Alle ore 17, Heidi, il film. Troia. Alle ore 19 e 21 e 30, Batman contro Superman. Merda, schifo. Quella puttanazza di tua madre, mette il film on air, pezzo di me da schifoso. No, scusi, pensavo che era il cicalino, perché siccome praticamente sto chiamando a tutti i cinema, però mi risponde sempre il cicalino. Allora, senta, scusi, io volevo un'informazione, se c'è il film dello zoo on air. No, ancora no. Ma scusa, ma com'è possibile che questo film non sta da nessuna parte, scusa? Eh, non è che non è... Eh, non lo so, io la voce lavoro solo qua e basta. Perché guarda, io conosco anche delle persone che forse stasera si vengono a legare davanti al cinema, ma là con le catene, perché, sai, questo film è molto bello. Lo so, ma purtroppo se la distribuzione non ce la dà, noi il film non l'abbiamo e non lo possiamo proiettare. Ma se io ti porto un DVD piratato, tu lo puoi mettere per noi, per gli amici? Abbiamo già la programmazione, tu mi porterai quello che vuoi, ma se... Eh, ma se tu mi puoi lasciare le chiavi... No, io non ho le chiavi. Tu non ce l'hai le chiavi? Non ce l'hai. Va bene, allora, senti, facciamo così, io stasera vengo e ti porto il CD e poi vediamo quello che si può fare, va bene? Va bene. Ciao, grande, ciao, ciao, ciao. Ma come va bene, ma no. Il caso. Il caso. Siete in linea con il Cinemateatro delle Rose. Deve la seconda sera? Dica. Ma, scusate, c'è il film On Air, quello dello zoo? No, noi no. Ma com'è, stufatto? Scusate, che sto cazzo di film non sta da nessuna parte, scusate se mi arrabbio, eh. Ma non sta da nessuna parte, sto film. L'hanno fatto proprio in penisola. Ma come no? Ma in altre regioni c'è? In Campania no? Eh, lo so, che ci vuoi fare? Ma come mai, scusate? Ma quelle mazzolli stanno in coppocazze, forse, a qualcuno. Io veramente lo adoro. Eh, ma com'è, cazzo? Sono da otto anni. Ma com'è, cazzo, questo film? Perché voi non ce l'avete? Scusate, chi l'hai di? Faccio Haiti o Kung Fu Panda, chi l'è una merda di film? Non c'è sta mazzolta. Hai perfettamente ragione, ma purtroppo non faccio io la programmazione. Ma chi la fa sta programmazione? Eh, una guerra, una guerra. Eh, merda. È una guerra. Non sempre comandiamo noi il film da scegliere, sono le maggior che impongono alcuni film. Poi ti ho detto, io non faccio la programmazione, io manco il trailer l'ho trovato. Che lo volevo almeno proiettare il trailer per fare un po' di pubblicità, manco quello l'ho trovato. E niente. Hai capito? Ma allora è qua. Questo è il nostro cazzo di sistema di merda. C'è la miseria, mannaggia. E tu quindi non vuoi fare niente? Niente. L'abbiamo esaltato, non sono manco riuscito a vederlo in tutto questo. Ma è assurdo, è assurdo, guarda. Vabbè, grazie, dai. Vabbè, valla a vedere se ti capita, dai. Eh, certo che sia. Appena c'è il giorno libero mi fiondo. Ok, dai, ciao. Buone cose, raga. Ciao, ciao, ciao. Pensa te. Cioè, allora, la distribuzione dice, no, sono in cinema che li tolgo. Poi chiami in cinema e dico, no, è la distribuzione, è la distribuzione. Vedi che la mail gliela dovevo mandare. No, no, no. È colpo del distribuzione. A Giampà, a Giampà, è mo' mencazzo a Giampà, a Giampà. E io so' pazzo, son pieno di cortisone. A Giampà, io so' pazzo, tu lo sai. No. Adesso sai cosa faccio? Sì. No. Adesso ho fatto, io ho la coppia del film. Adesso la vado a regalare in tutti i cinema. No. Per il gusto solo di far morire gli altri film. Usiamo gli ascoltatori. Gratis. Allora, Giampà è quello della distribuzione. Eh. Allora, dove cazzo sta sto distributore? Andiamo tutti dal distributore. Ma no. Non è un benzinaio. Io c'ho la chiavetta. Ma no. Non credo che sia. Faccio una battuta. Allora, sai cosa beve un cardiologo a fine cena? No. Il liquore. Molto bello. È divertente. Bravo. Sei divertentissimo. E ritorna più delirante che mai. Noi siamo lo so.